Il progetto dell'orchestra in opera si inserisce nell'ambito delle molteplici attività trattamentali che vengono svolte all'interno dell'istituto e in particolare attività che prevede il coinvolgimento della comunità esterna che quindi ha un particolare rilevanza. Peraltro il raccolto della ricavata di questa ferata andrà alla Casa di Riposo in Fondazione di Giuseppe Verdi. Quindi vi ringraziamo e benvenuti. L'idea del concerto è concertare, cioè suonare insieme. E quando si dice suonare insieme non si tratta solo dell'orchestra che suona insieme, ma anche il pubblico suona insieme all'orchestra, lo sanno bene gli artisti. Quindi siamo qui tutti insieme per fare musica. Ieri sera abbiamo inaugurato il nostro anacademico in Conservatorio, ma non ero emozionato come sono emozionato adesso, perché li ho sentiti provare prima e devo dire che hanno fatto un lavoro meraviglioso. Quindi noi in Conservatorio, c'è anche il Presidente Vignani, vi seguiamo sempre. Quindi sappiate che vi siamo sempre intorno per tutto quello che fate. Grazie mille, anche l'abbiato. Grazie mille, anche l'abbiato. Grazie mille, anche l'abbiato. Grazie mille, anche l'abbiato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.